La metà degli ori italiani sono lombardi, tra cui i Varesotti, Nicolò Martinenghi nel nuoto e Caterina Bosetti nel volley. E più in generale, un quarto di tutte le 40 medaglie, con 16 medagliati nati qui, a cui si aggiungono quelli cresciuti sportivamente nella nostra regione. È il bilancio tracciato con soddisfazione da Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, che nel congratularsi con tutti gli atleti e gli atleti commenta. Ora, prima di volgere lo sguardo all'avventura di Los Angeles 2028, cerchiamo di vivere con entusiasmo l'esperienza di Milano Cortina 2026, dove tutta la nostra nazione sarà chiamata a far vivere i valori olimpici.